Ciao a tutti malati di mina, ciao a tutti, video veloce, rapido, improvviso non aspettato, perché? Perché ha parlato Teo Hernandez Siamo terrorizzati tutti, abbiamo una paura fottuta Ha parlato Teo Hernandez, su Teo ragazzi ho già fatto un video dove vi ho detto quello che so e quello che mi aspetto Ma in realtà io sto pregando da oggi fino a quando non chiuderà il mercato, io pregherò tutti i giorni Teo Hernandez ha parlato, le parole sono state le seguenti Possono avere varie interpretazioni, possono essere semplicemente delle parole per far vedere che comunque è concentrato sulla nazionale E al futuro pensare dopo, però non è che ha detto vado via dal Milan Però ha fatto capire che dopo l'europeo si vedrà Quindi vuol dire che non è certo di rimanere, vuol dire che ci sono delle cose che evidentemente si aspetta per rimanere Oppure ha deciso già di andare via, le cose sono due O ha deciso già di andare via, oppure si aspetta che il Milan faccia in modo che Teo Hernandez rimanga Sicuramente se le cose rimarranno così, del tipo, un po' come ha fatto capire anche Ibrahim Conferenza Teo, Leao e Magna rimangono, hanno un contratto, rimangono Bene, se il Milan non farà nulla per tenere Teo Hernandez, signori Teo Hernandez lo salutiamo E queste sono state dichiarazioni che diciamo che lo fanno capire chiaramente Io sono preoccupato, sono preoccupato perché ho paura che il Milan non faccia quello che debba fare Teo Hernandez bisogna tenerlo ragazzi, io sono delle opinioni che a Teo Hernandez devi andare lì Dare la cifra che si merita, minimo uguale a Leao se non di più Devi dargli la fascia di capitano, devi responsabilizzarlo e dirgli se è il nostro top player portaci a vincere Teo Hernandez ha bisogno di questo Teo Hernandez deve sentirsi ogni fottuto giorno un giocatore importante, un giocatore su quale il Milan punta E questo non sta succedendo, questo non sta succedendo perché Teo Hernandez prende 4 milioni Ok? All'incirca, non lo so come preciso, comunque prende all'incirca 4 milioni E questo ragazzi è folle, è folle Quindi io mi auguro che dopo questo europeo, sperando a questo punto che non faccia così bene perché se no è finita Mi auguro che il Milan vada lì e dica Teo, questa è la cifra, questa è la fascia Vieni, ti aspettiamo Succederà? Non lo so So solo che ragazzi Allora, io so già So già che le correnti di pensiero saranno due principalmente Uno, Teo Hernandez deve restare, bisogna fare di tutto per tenerlo E l'altra parte al Milan resta chi vuole, chi vuole rimanere, gli altri possono andare perché il Milan è il Milan Bene, la verità sta in mezzo, la verità come al solito, come sempre sta in mezzo Perché? Ve lo spiego benissimo La questione chi vuole rimanere al Milan bene, chi vuole andarsene Insomma, chi non sposa la causa può andar via È giustissima, è una cosa importante che deve esserci sempre Perché il Milan è sopra tutto, sopra Teo, sopra Leao, sopra Manan, sopra chiunque Il Milan è il Milan, il Milan è la cosa più importante Però bisogna anche capire una cosa importante, ok? Che i giocatori bisogna fare di tutto per tenerli, ok? Bisogna fare in modo che restano al Milan, no? Non che tu, vabbè Teo Hernandez c'è il contratto col Milan Ti siedi così, cioè, vabbè Se vuole rimanere bene, se no va via No, non si fa così, ragazzi Perché dal Milan, sono andate via leggende Kakà, Shevchenko, Pirlo, ok? Ok, sono andati via loro Perché non dovrebbe andare via Teo Hernandez? E il calcio era anche diverso, ok? C'erano ancora delle bandiere Se sono andati via loro Perché non deve andare via Teo Hernandez, ragazzi? L'unico modo per non far andare via Teo O almeno, l'unico modo per provare a non far andare via Teo Hernandez È fare quello che vi ho detto prima Bisogna coccolarli i giocatori importanti Bisogna farli sentire importanti Bisogna farli rimanere Bisogna farli tutto per farli rimanere al Milan, ragazzi Perlusconi, Gagliani Non è che Kakà ogni anno gli dicevano No, Ricchi, come sta? Rimani, eh? Non è che li convincevano così stando seduti sul divano No, faccivano di tutto per farli rimanere Ok? Poi ovviamente la scelta La prende ovviamente il giocatore La deve prendere il giocatore Deve voler rimanere il giocatore Ovviamente Ma la società deve fare la sua parte Perché se la società non fa la sua parte È normale che il giocatore vuole andare via, ragazzi Del Piero Maldini Totti Non ci sono più Non esistono più I giocatori importanti Bisogna farli tutto per farli rimanere Bisogna metterli nelle condizioni Di voler rimanere Se poi loro vogliono andarsene Quella è la porta Ovviamente Il Milan prima di tutto Se il giocatore non ha voglia di rimanere al Milan È giusto che vada via Ok? Ma prima di arrivare a ciò La società è importante che faccia di tutto Per metterli nelle condizioni di poter rimanere Ok? Bene Questa La verità arriva in mezzo La verità è come sempre In mezzo Non è una questione di dire Eh, chi vuole rimanere al Milan Bene Chi vuole rimanere Va a fanculo È una questione che la società deve fare la sua parte E io mi auguro con tutto il cuore Cuore che la faccia Perché Teo è imprescindibile Teo Hernandez è imprescindibile Deve rimanere Almeno Devi fare in modo Che rimanga Poi ripeto Se Teo Non vuole rimanere al Milan Si è stufato Vuole andarsene Quella è la porta Il Milan è soprattutto Fine Però società Fa il tuo dovere Non vuole rimanere al Milan